Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video sulla missione Apollo 8 Eravamo rimasti in traiettoria con la Terra Avevamo appena effettuato la TEI Cioè l'iniezione transterrestre E quindi riprendiamo la missione Con la luna che si allontana e la Terra che si avvicina Ora, a questo punto sembra che la missione sia finita In realtà è così, però prima di concluderla veramente C'è ancora qualcosina da fare come ad esempio qualche correzione di rotta Quindi bisogna effettuare la prima correzione di rotta Alle 104.18.33 gate Quindi, torniamo Torniamo sul Lunar Transfer MFD Se avete l'orbita MFD acceso cambiatelo su Earth Ok, perfetto E invece, tornando sul Lunar Transfer MFD Premete Program E selezionate TEI di nuovo E come potrete notare è cambiato da TEI a TECC Che significa Trans Earth Course Correction Cioè correzioni di rotta transterrestre Quindi, noi andremmo però A settare In certi casi I dati che avevamo già settato prima Per la TEI Quindi, ad esempio il RET Che è Rientry Time Cioè il tempo in cui dovremmo rientrare Che bisogna rispettare E 146 46 e 12 mi sembra 146 46 e 12 Perfetto E poi Bisogna rimpostare L'angolo di rientro Che è 6.10 Bisogna Impostare il tempo Dell'iniezione Di quando Dobbiamo effettuare l'accensione Quindi premiamo SET E Inseriamo 104 18 E 33 Che è il tempo della prima correzione di rotta Perfetto Quindi Controllando tutto Ha già TIG Mi sono dimenticato Manuale E quindi TIG La data che abbiamo inserito prima Bene Perfetto Adesso premiamo EXE DV EXE E come vedete L'accensione è veramente molto breve Però Serve Utile Perché Prima viene fatta E meglio E Acceleriamo il tempo Fino all'accensione Vediamo la luna che si allontana sempre di più La terra che si avvicina Ci avviciniamo All'accensione Mancano 140 secondi In diminuzione 100 secondi 1 minuto 30 secondi 5 4 3 2 1 Accensione effettuata Con successo Bene Infatti se Per monitorare Costantemente La vostra traiettoria di rientro Potete aprire sull'altro MFD Di nuovo Lunar Transfer MFD Premere Program E Premere Flight Monitor Premere SetOEX E premere VM Ecco Questa è la terra E questa è la vostra traiettoria di rientro Infatti qui c'è L'ipotetico Rientri Time Che è il Eh si Rientri Time Che piano piano Andando sempre più avanti Si aggiusterà da solo E Il Rientri Angle Che per adesso è 6.19 Ma Man mano che ci avviciniamo Diventerà sempre più preciso E poi dovremo effettuare altre Due correzioni di rot Per aggiustare questi dati Che altrimenti rischiate di bruciare Nell'atmosfera Allora Quindi ci prepariamo per la nuova correzione di rot Premete Program Tei E rinserite I dati di prima Cioè Re Ret Che è 146 46 E 12 E il Rea Che è sempre 6.10 Poi il TIG dovete cambiarlo in manuale E mettere il TIG Cioè il tempo dell'accensione Che è 100 19 18 E 0 0 Premere X Delta V X E Accelerare il tempo Fino all'accensione Ok CSM si è già posizionato Correttamente Correttamente 5 4 3 2 1 Accensione effettuata con successo E adesso impostiamo l'ultima correzione di rot Di nuovo Program Tei TIG Manual Reentry Time Risettiamo di nuovo 146 46 12 Rea E' già automaticamente 6.10 Quindi va bene E il TIG Che è 144 40 E 0 0 Ok perfetto X X Già questo è un'accensione un po' più Un po' più Grande E che verrà fatta In prossimità della terra Ok ci prepariamo per l'accensione 7 6 5 4 3 2 1 Accensione Accensione effettuata con successo Infatti Come vedete Dal Flight Data Display Il nostro Rientro avverrà Esattamente Alle 146 46 E 12 Con un angolo Di rientro Di 6.10 Grati Quindi Va bene Non dobbiamo effettuare Nessun'altra Correzione di rotta Allora Perfetto Chiudiamo Definitivamente Il Lunar Transfer MFD Che non ci servirà più Al massimo potete tenere Attivato Il Flag Data Display Ma In realtà Neanche questo serve Quindi Io ad esempio Metto da una parte Orbit MFD E dall'altra Surface Oppure Ad esempio Si potrebbe anche fare così Potrebbe anche mettere la mappa Però con Referenza Terra E da la vostra posizione Attuale Su un mappamondo Bidimensionale Noi appunto Arriveremo da qui E Dovremmo rientrare Attorno Queste zone qui Si Più o meno Dovremmo incominciare a rientrare Sopra L'Australia Però Il rientro Lo effettuerò Nel prossimo video Quindi vi saluto Al prossimo video O